sentito il backstage mi dicono balla anche te ma poi sono troppo bravissimo io con la stavo ammazzando hai visto con niente abbiamo sentito il backstage di veronica adesso è la volta della prova ballo per prova danza per l'ittc stefanelli di mondragone rachele loro sono monia natalia carmela e daniela e ballano screen ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pure? Vai, ci sei? Uno, due, tre. Yeah! Ok, adesso per voi backstage le ragazze dello Stefanelli di Mondragone. Se vi è piaciuta la loro esibizione e se volete supportare il loro istituto, basta andare sulla pagina Facebook di StarscolTV. Antonellina, compagnone da Linda. Ciao, grazie! Che brave! Ben tornati al backstage, finita la seconda prova di ballo e siamo con lo Stefanelli di Mondragone. Ragazze, com'è andata questa prova secondo voi? Bene, bene. Tutte e quante bene. In coro, tutte e quante bene, convinte, questa cosa ci piace. Prima esperienza in televisione? Sì, sì. Qualcuno di voi studia ballo o è una cosa vostra? Noi. Voi due, quindi diciamo vi siete tirate dietro le altre due. Per te, le tue impressioni? Sei stata l'unica che non ha detto nulla. Ah, niente, mi sono divertita e anche se abbiamo sbagliato qualcosa non fa niente. Per me siete state bravissime così, siete grintuose, avete grinta e questa è la cosa più importante. È importante partecipare e mettersi in gioco e voi l'avete fatto. Io vi faccio di in bocca al lupo, vi ringrazio di essere state con noi e restituisco la linea a Marcello e Rachele.